Benvenuti alla White Gallery, sono Caterina Burzotta e sono la responsabile del reparto fashion donna e classico donna. Oggi vi vorrei parlare di uno stilista in particolare che io adoro tantissimo. Si parla di Valentino. Abbiamo qui un abito in chiffon rosso, rosso Valentino per l'appunto, realizzato a balze. Continuando a parlare dello stilista vorrei proporvi un abito eccezionale. Questo abito è meraviglioso, è stato realizzato con un corpino in pizzo ricamato con delle pagliette e canottiglie. La gonna è realizzata con un tessuto in cadì. Può essere coordinato l'abito con questo cappotto. Questo cappotto ha il corpino in pelle, ve lo faccio vedere, ricamato anch'esso come l'abito, realizzato con un cashmere. È la particolarità di questo cappotto che ha il corpino in pelle. Guardate la particolarità anche di questa martingala. Anche questa realizzata in pelle è ricamata con perline e canottiglie. Abbiamo inoltre sempre di Valentino il tubino realizzato in velluto, in velluto di seta per l'appunto. Continuando la nostra passeggiata abbiamo lo stesso abito di Valentino realizzato prima lungo e rosso, realizzato in black per una donna più giovane. Questo è un cappotto in cashmere con gli inserti in visone. Ecco questo può essere indossato anche sull'abito che vi ho fatto vedere prima. Abbiamo questo abito impreziosito da Swarovski nel corpino, realizzato alla gonna in cadì. La parte superiore è realizzata in sciffonna e ha questa lavorazione particolare con gli Swarovski. Parlando sempre di Valentino, abbiamo una proposta da farvi, bellissima. Questo abito bianco che per Valentino rappresenta l'abito da sera di fine sfilata diventa la valida alternativa ad un abito da sposa, per quella sposa che vuole qualcosa di diverso, non il solito abito tradizionale. Guardate l'eleganza di quest'abito. Realizzato con la gonna in seta, in cadì di seta appunto e il corpino sempre in sciffon con questa lavorazione a canestro e questi inserti in Swarovski. Per finire, sempre per un discorso cerimonia, perché no? Una sposa anche in questo colore, è color cibria. Anche questo è meraviglioso. E quest'abito volendo può essere coordinato da questa piccola giacchina, una giacchina bolero, per chi non vuole andare con le spalle scoperte. Grazie a tutti.